Se volete sapere come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona o sapere come diventare famosi usando YouTube o semplicemente capire il segreto per realizzare i vostri sogni leggete come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona Se invece voleste solo sapere chi è Daniele Zazemater cosa lo ha spinto a fare video su YouTube o come sono nati i personaggi da lui creati Beh, perché non vi fate un chilo di cazzi vostri? Ma se proprio papà non riuscite a farne a meno leggete come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona Se invece non vi interessa nulla di tutto ciò Magna ma Un bacione a mamma California e al prossimo video risposta Weee